Ehi, ma cos'è quello, Carl? Oh, è un fantasma! Oh, è Marley, il suo aquilone fantasma! Oh, non preoccuparti, Marley, possiamo aggiustare il tuo aquilone! Carl, a qualcuno serve il super camion! Coraggio, andiamo! Super camion, Ben stava raccontando ai piccoli delle storie paurose quando uno strano suono è arrivato dal labirinto. Ben è andato a vedere di che cosa si tratta e i piccoli gli sono andati dietro. E poi qualcuno o qualcosa ha bloccato la strada all'interno del labirinto. Bene, i piccoli, sono spaventatissimi! Devi aiutarli ad uscire, super camion! Oh! Oh no! C'è un fantasma! Bene, i piccoli sono intrappolati all'interno del labirinto e non possono scapparli! Fai qualcosa, super camion! Queste sono troppo pesanti per te, super camion! Oh no! Ai nostri amici serve aiuto! Veloce, super camion! In quale veicolo ti trasformerai questa volta? La vita! Grazie a tutti. Un supercamion da trasporto! Ora sei molto più forte! Un ottimo lavoro! Oh no! Il fantasma! Supercamion! Dove sei? Veloci, piccoli, salite sul supercamion! E ora andiamo fuori di qui! Oh no! Quei blocchi di fieno sono troppo pesanti anche per te! Che cosa possiamo fare ora? Oh no! È cool! Supercamion! Devi fare assolutamente qualcosa per salvare i piccoli! Hai già un'idea, supercamion? L'ST3000! Ecco l'idea! Così si fa a supercamion! Sì! E ora vediamo un po' chi è quel fantasma! Dane! Ma sei stata tu tutto questo tempo? Piccoli, abbiamo una sorpresa di Halloween per voi! Siete pronti? Ok! E allora si va! Buon Halloween! Ben fatto, Supercamion! Alla prossima avventura!